Salve a tutti amici, bentrovati su TCC Television, da Daniel con Sole Luna, guardiani nascenti di nuove espansioni di Pogano Cargamer, altre telebooste da aprirci assieme come sempre. Questa volta abbiamo commo, tapulele e Ninthers, cominciamo da... non lo so, cominciamo da Ninthers, anzi no, me lo tengo per ultimo, ma mi apro prima tapulele, e tapu poco. Perchè ho detto tapulele? Non lo so. La costina si è devastata come sempre, proviamo di togliere il codice, facciamo il nostro trick. E andiamo con Wild Mare, Stuffle, Phantom, Helioptile, Beldum, Energia Erba, Ibis, Altare Solare, Akamo, la Reverse, un Trainer, molto bene, un Leuteria Energia, e partiamo con una Full Art. Alla grande, di tipo Drago Electro, non riesco a capire, perchè il Drago l'hanno fatto a color oro, sembra quasi, è di tipo Drago, e quindi è KOMO, GX, Full Art. Bello bello, l'avevamo già visto, se non sbaglio. E passiamo alla seconda, appunto, visto KOMO, chiama KOMO, apriamoci, quella di KOMO. Via, 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 via. Allora, facciamo un po' di pulizia, di sgombero. Va bene. Va bene. L'hai detto tu. Il codice. E cominciamo con Nosepass, Tailow, Rockraff, Gumi, Slowpoke Energia Acqua. Poi abbiamo Lampent, abbiamo Tentacle Well, abbiamo la Pulsione Max, abbiamo Youngmo, O, Reverse, e poi, come Rara, di tipo Fuoco, sembrerebbe, no, di tipo Lotta, Lotta Fuoco, è Minar, Olografico, è Lotta, l'abbiamo capito. Ultima busta, Alola Ninetales. Via! Via! Del codice. Uno, due, tre, e quattro. Ok. Cominciamo con Stafful. O Stafful, come volete. Slowpoke, Wishy Washy, Nosepass, Wimpod, Energia Lot, Eletro, Akamo, Lotteria Energia, Machoke, La Reverse è una comune di tipo Psico, ed è una gotita di Pongo, e, attenzione, un'altra Vulante, non ci credo, due Vulante di fila, in un unico spacchettamento di tipo... No! Di nuovo Vika Volt! Oh! È fuori serie! Bellissimo! Non è la migliore carta da giocare, non è il miglior Pokémon che ci sia, però è una fuori serie, e ce la godiamo. Bene, ragazzi, ottimo spacchettamento, abbiamo trovato una GX Full Art, una GX Full Art fuori serie Rainbow, come preferite chiamarla. Sono contento così, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!